Diciamo che ci siamo ripresi da una sconfitta brutta in casa, dove abbiamo subito tanto mentalmente più che fisicamente. Parlando del debutto voglio ringraziare soprattutto lo staff, tutta la dirigenza, il presidente, il mister che anche se è arrivato da poco, da due giorni, mi ha concesso subito questa opportunità e ne sono veramente grato e diciamo che voglio far valere tutto il mio potenziale, voglio far esprimere tutto quello che ho da dare. Inizialmente mi stavo riscaldando, poi ho sentito il mio nome e ho detto forse avrà sbagliato, non lo so, magari sta chiamando qualcun altro, poi ho detto che guardavo a me ho detto ok adesso è il momento e da lì tutte le voci che c'erano da fuori tutto buio totale, però diciamo che l'ho gestita bene e quindi sono felice. Poi un debutto con la vittoria ci voleva proprio, non si dimentica facilmente. Già dal primo giorno anche essendo il più piccolo non mi hanno messo in disparte, anzi mi hanno sempre reso parte del gruppo e quindi questa cosa è una cosa che dà molto valore anche dal punto di vista personale perché diciamo che avere una squadra a fianco che ti sappia mettere nel gruppo, accettare così è molto importante anche dal punto di vista di crescita personale.